Ciao ragazzi e benvenuti alla nuova puntata di MotolookTV, il canale moto di Youtube che è sempre in moto per voi. Oggi recensione dinamica della Alpinestar Andes, la giacca Touring & Ventura Multistagione realizzata da Alpinestar. Oggi la vedete in questa tonalità nero-grigio, la tonalità più sportiva. Esistono altre due varianti colore, la nero, l'alta visibilità e la grigia. Allora, partiamo dall'esterno della giacca. Allora, la giacca è una giacca multistrato a due strati con membrana da Alpinestar impermeabile, quindi una giacca completamente impermeabile e traspirante. Protezioni, spalle e gomiti e possibilità di inserire un paraschina, che noi abbiamo già inserito volutamente all'interno della giacca, per farvi vedere come veste. Le tasche esterne, anche se questa è una giacca entry level, sono completamente impermeabili, e quindi hanno una cerniera perfettamente nastrata, che tiene asciutte le cose che mettiamo in tasca. Qui abbiamo due tasche rapide, per mettere le cose più velocemente, e poi la chiusura superiore, di cui parleremo dopo. Due belle ventilazioni, molto ampie, qui sulla parte frontale, per incanalare più velocemente l'aria. Regolazione della manica, sia nella parte bassa che nel volume, qui intermedio. Regolazione dei fianchi. Ampi rifrangenti, tutta questa fascia centrale. E qui sulla manica. Adesso guardiamo la giacca di profilo. Qui c'è un soffietto, c'è uno stretch panel, che migliora la vestibilità del gomito, e qui un trattamento ceramico, che aumenta la resistenza all'abrasione in questi punti di impatto. Altra parte laminata, quindi con catare frangente laminato, è un pratico tascone posteriore. A cosa serve? La trapunta termica che abbiamo all'interno, possiamo eliminarla e metterla qui dentro, in caso di cambio di clima. Due begli scarichi posteriori, l'aria entra da davanti, ma esce da qui dietro. Nella stagione estiva cosa possiamo fare? Allora, viene impostato prima un colletto alto, quindi per la stagione più fredda, ma nella stagione estiva abbiamo un bottone automatico che ci permette di abbassare il collo e di chiuderlo in questo modo. Quindi, avere un collo più basso nella parte posteriore. Può essere anche comoda con la vestibilità di certi modelli di casco, che scendono verso il basso e così non interferiscono con il collo e col bordo collo. Vediamo la giacca dietro. Qui vedete come veste, quindi è una giacca touring avventura, ma con un taglio abbastanza sportivo. Giriamo ancora di qui e vediamo questo gancetto, che è quello che serve a bloccare il collo in posizione aperta, perché noi d'estate possiamo aprire fino a qui il collettino e bloccarlo in questa posizione. Poi qui abbiamo un bottone automatico che ci permette di bloccare il nostro bordo collo. Qui apriamo e ventiliamo la giacca al massimo. Quindi ventiliamo la giacca senza avere questo sventolio. Qui lateralmente è stata realizzata una tasca napoleona. Quindi possiamo mettere il portafoglio e qui resterà asciutto. Altra cosa importante, le protezioni omologate, spalle e uomiti estraibili. Quindi, volendo, se dobbiamo lavare la giacca, eliminiamo le protezioni. La giacca è garantita due anni, anche l'impermeabilità della giacca è garantita per due anni. Apriamo che vi faccio vedere il discorso della trapunta termica. Quindi, una trapunta termica completamente estraibile. La possiamo eliminare senza problemi. Altra cosa intelligente di questa giacca, giro di qui così vi faccio vedere meglio, è questa. Allora, noi la giacca la chiudiamo nella parte bassa e alziamo la cerniera in modo tradizionale. Nella parte bassa però c'è un secondo cursore che ci permette di regolare anche la vestibilità. Ma, su alcuni tipi di moto, può essere utile poter aprire questa parte per non avere la giacca che ci fascia troppo nei fianchi. Quindi la richiudiamo. E possiamo chiuderla ermeticamente. Molto importante che una giacca sotto i 200€ con tutte queste caratteristiche, secondo me, sul mercato non c'è. Soprattutto a livello di stile. La giacca è veramente bella. Ha un bel design, ha un bel taglio. Qui da noi, da Moteluke, trovate a 189€. Con la nostra tessera avete diritto a uno sconto del 10%. Cosa dire? Direi che abbiamo detto tutto. Vi ricordo, provate, provate, provate la qualità dei prodotti Alpinesta. E soprattutto venite a provarla e a toccarla con mano nel nostro negozio Moteluke di Boghera. Un saluto e alla prossima recensione. Ciao! Ciao!